Ben tornati con smeraldo ok sono qua c'è un telepad ho saltato tutti gli allenatori e via mettiamo Manectric e Swampert anzi no armato adesso usiamo Manectric e via c'era molto dura lo dico già poi c'era anche una battaglia molto lunga quindi abbiamo due scontri lunghi e capiretemi la popcorna anzi la coca perché abbiamo due scontri lunghi e capiretemi cosa farlo più avanti ma vedo male per Manectric c'è qualche foto pesante che ha subito lì vabbè intanto abbiamo le statistiche aumentate baca cedro ok adesso dovrebbe esserci Solrock si ecco oddio Manectric bianchiamo di Camerapt no Swampert cosa vuol dire che è l'unico che può da bianomano un surf ok fuori 3 livello 42 non per niente questo l'acqua surf visto che il danno non è condiviso con Solrock l'acqua riddle muore riddle muore uccidendo un po' chiaramente e ora ce ne rimane una sola ok li registriamo come al solito riusciamo ci puliamo e intanto il Tic Magma vuole fare un ultimo colpo metto metto su Humpert fuori uno fuori due fuori tre fuori quattro e fuori sette fuori e adesso scontro finale pronti ok si dice che poiché Gromdon è andato via faccio il carburante per far una grandissima riusione però questo non lo possiamo permettere allora lottiamo con Rocco allora prendo armado panettric e su Humpert via metto che scarmori è aggro non vedete gioco gioco Vaffanculo... Vaffanculo, sai, Maikena? Ah, godo! Godo ancora di più! Ok, forno per Capitano Magma! Ok, forno per Capitano Magma! Ai, oh! Cioè, ma sei coglione, Metang! Fatte da dire! Acquisto l'acqua... Oh, finalmente! Qualcosa di recente fai! Forza antica ancora! Ok, tu fai il coglione! E' verlo, 43! Grande! Grande! Corretto eh! Ho tirato giù! Fuori! Muori, cappello di roccicione! Ok, ora si! LOL E per finire... Beh, rocciotomba! Poi pone che forza antica E infine vai chiaro Eccato chiarito un po' forza antica Questo è un attacco E' diminuito Però basta Addio Certo che ho sbagliato anche quello di Ivan Cosa credi Max? Certo Morale Nessuno deve permettersi di Comandare il tempo O di manipolare O di manipolare La formazione della terra Cosa 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 Anche per questa parte è finita E Niente Ciao 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 ragazzi Cosa 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 Cosa